Allora, iniziamo con il secondo gruppo ed è la volta di Matteo con un Golden Retriever. Martina con un pastore australiano, Alberto con un Border Collie e Jessica con un Bracco Italiano. Allora, qua siamo nella seconda categoria, dai 12 ai 18 anni non compiuti. Abbiamo Matteo con un Golden Retriever, viene richiesto il triangolo anche a Matteo. No, un up and down. Ecco qua, un applauso anche per Matteo. Anche qui vi è un fine anno, una classifica fra tutti i ragazzi che hanno partecipato alle esposizioni nelle Marche e i primi tre andranno a Milano per le finali. Ok. Ed è la volta di Martina con un pastore australiano. Il Caneby. viene piazzato davanti alla giudice, verranno mostrati adesso i denti e torna al posto ed ecco Alberto con un border collie siamo qui nella categoria maggiore indubbiamente vedete come viene piazzato il cane, ripeto non giudica il cane il giudice in questo tipo di concorso ma come il cane viene presentato dal conduttore e quindi l'affiatamento e la bravura del conduttore concludiamo con Jessica Jessica con un bracco italiano ecco qua penso che anche in questo caso avremo il cambio cani allora abbiamo qui il cambio cane fra Matteo e Martina Matteo con il pastore australiano e Martina con il golden ok e adesso abbiamo il cambio fra Alberto e Jessica vedete prima domanda nel nome del cane giustamente i ragazzi fra di loro pronti via Alberto e Jessica allora allora riprendete il vostro cane Alessandra siamo pronti allora al quarto posto Alberto al terzo posto Jessica un giro signori forza al secondo posto Martina vince Matteo ok ok allora per il best ciao a tutti